Suona la campanella anche in ospedale per i bambini e i ragazzi ricoverati nel Vito Fazzi di Lecce impossibilitati a frequentare la scuola. Parte domani, mercoledì 14 settembre, l'undicesimo anno della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado in ospedale. I reparti coinvolti sono pediatria, chirurgia pediatrica, onco-ematologia pediatrica, ortopedia oculistica, la reumatologia e immunologia pediatrica del Vito Fazzi. Gli alunni che utilizzano il servizio sono in regime di lungo degenza dei hospital e dei hospital continuativo. La scuola in ospedale è stata istituita dall'ufficio scolastico regionale in sinergia con l'ASL per garantire il diritto allo studio, la continuità didattica e il benessere psicofisico degli alunni. Nella primaria e la secondaria di primo grado, nell'anno scolastico, pre-pandemia, ha coinvolto 220 studenti con 8 docenti. Scuola a capofila per elementari e medie, l'istituto comprensivo statale Dante Alighieri, Armando Diaz di Lecce. Oltre a seguire i protocolli istituiti dal Ministero della Sanità e dal Ministero della Pubblica Istruzione sulla continuità formativa ed educativa, la Sio del Fazzi ha rimodulato le discipline e unito alcuni moduli della scuola primaria e della secondaria di primo grado, riponendo particolare attenzione su arte e musica, discipline creative ed inclusive che permettono di veicolare meglio le emozioni dell'alunno degente. La scuola in ospedale, ha spiegato il commissario straordinario dell'Asl di Lecce Stefano Rossi, è molto di più di un percorso mirato all'apprendimento e alla continuità didattica, rappresenta una finestra sul mondo, un'occasione di benessere psicofisico, di umanizzazione e delle cure. Lo scorso anno la Sio di Lecce è stata premiata tra i sei migliori progetti del prestigioso premio Atlanta Italian Teacher Award, istituito dal United Network Europa.